Nel duello tra le sorprese di questa Liga, ancora lui! Scende in campo il nuovo capo di Valencia. La zeta di Zazza che squarcia la partita! Un italiano alla conquista della Spagna. Un'intervista per raccontarlo. La mia storia dalla zeta la ha su Fox Sports. Venerdì 13 alle 22.30, lo speciale Zazza. E domenica 15 alle 20.45, Betis Valencia. Una partita bellissima solo su Fox Sports. Un'intervista per raccontarlo.